Antonio Gramsci è nato in Sardegna il 22 gennaio 1891. Giunge a Torino intorno alla metà di ottobre del 1911 per sostenere le prove d'esame per le borse di studio offerte dal Real Collegio Carlo Alberto. Il primo contatto con la città è duro. Torino viene accolto alla stazione di Porta Nuova da un compaesano che gli indica una casa dove alloggiare, che però risulterà cara. D'altronde, in occasione dei festeggiamenti per il cinquantenario dell'Unità d'Italia e dell'Esposizione Universale al Parco del Valentino, Torino ha visto lievitare i prezzi. Alloggia in Corso Firenze 57, ma trascorre molto del suo tempo all'Università e alla Biblioteca Nazionale. Entra in contatto con Tasca, Togliatti e subito dopo Terracini. Comincia a formarsi il gruppo che farà da fondamento della redazione dell'Ordine Nuovo, ma per ora Gramsci è impegnato nei suoi studi. Nell'autunno del 1912 può abbandonare la nebbia gelata delle rive della Dora e trasferirsi prima al numero 33 e poi al numero 14 di via San Massimo, dove rimarrà fino al maggio del 1922, quando abbandonerà Torino per Mosca. Nel 1912, nel 1913, a certe ore del mattino, quando abbandonavamo l'aula e dal cortile uscivamo nei portici avviandoci verso il Po, incontravamo frotte di uomini diversi da noi che seguivano quella strada. Racconta Togliatti Tutta una folla si dirigeva verso il fiume e i parchi sulle sue rive, dove in quei tempi venivano confinati i comizi dei lavoratori in sciopero o in festa. E lì andavamo anche noi, accompagnandoci a questi uomini, sentivamo i loro discorsi, parlavamo con loro, ci interessavamo della loro lotta. Gramsci stabilisce nuovi rapporti col Movimento Socialista, in particolare coi giovani del Fascio Centro, di Corso Siccardi XII, sede anche della Camera del Lavoro e di altre istituzioni operaie torinesi. L'opera di educazione dei giovani operai diventa sempre più importante. Anche il numero unico, La Città Futura, pubblicato l'11 febbraio 1917, è dedicato ai giovani che, pensosi del compito che la vita impone a ciascuno, si preoccupano di crearsi quell'ambiente in cui la loro energia, la loro intelligenza, la loro attività, trovino il massimo svolgimento, la più perfetta e fruttuosa affermazione. Le parole di Gramsci assumono luce profetica. Qualche giorno dopo il mondo viene colpito dalle notizie sulla rivoluzione russa, che da molti viene letta soprattutto come una protesta contro la guerra. La tentazione di fare come in Russia diventa sempre più forte con l'acquirsi delle difficoltà economiche e dell'insofferenza delle masse. In agosto le masse torinesi diventano protagoniste di una vera e propria rivolta armata, che per quattro giorni interessa le strade della città. L'occasione è data dalla prolungata mancanza del pane. Quando nel mese di aprile 1919 abbiamo deciso di iniziare la pubblicazione di questa rassegna, ordine nuovo, nessuno di noi, forse nessuno, pensava di cambiare la faccia al mondo, pensava di rinnovare i cervelli e i cuori delle moltitudini umane, pensava di aprire un nuovo ciclo nella storia. Così, nell'agosto 1920, Gramsci rivive i momenti in cui, con Tasca, Togliatti e Terracini, si decide di dar vita alla nuova rivista. L'ordine nuovo diventa il giornale dei consigli di fabbrica, che sorti nell'agosto 1919 nelle officine torinesi della Fiat Centro di Corso Dante sostituiscono le commissioni interne. L'occupazione delle fabbriche rappresenta una situazione rivoluzionaria. Per la prima volta gli operai, attraverso i consigli da loro voluti, gestiscono autonomamente la fabbrica, mentre gli imprenditori sono costretti ad osservare da fuori le proprie fabbriche che funzionano anche senza di loro. A Gramsci, che si impegna intensamente nella lotta, sia con una serie di articoli, sia intervenendo nelle fabbriche occupate, sembra che il momento per un primo passo realmente rivoluzionario sia prossimo. Ma, iniziata l'occupazione, risulta chiaro che non esistono ancora una reale preparazione per la rivoluzione e una conseguente volontà politica nel gruppo dirigente del PSI. Finita l'occupazione, è ormai il tempo della reazione. Gramsci deve essere protetto, ma il 28 aprile 1921 i fascisti assalgono ed incendiano anche il simbolo della Torino operaia, la Camera del Lavoro. 1922 Nel corso del secondo congresso del Partito Comunista d'Italia, 20-24 marzo, viene designato a rappresentare il partito nell'esecutivo dell'Internazionale Comunista. Non rientrerà più a Torino. Non rientrerà più a Torino.